Oggi Fescoop è ospite del comune di Boves, in particolare del suo sindaco Mario Giuliano e abbiamo scoperto che Boves è una realtà comunale che finalmente può guardare al futuro con un po' di ottimismo, perché effettivamente la cooperazione già solo tra gli abitanti funziona e come ci diceva il sindaco poco fa, ci sono tanti esempi anche di buona cooperazione. Sì, direi di distinguere tra l'ottimismo in questo campo e l'ottimismo in generale, ma in questo campo sì. Il comune già al momento si rivolge presso due cooperative di tipo B e poi soprattutto fa parte della cooperazione ma anche se è diversa alla nostra banca locale. Sicuramente la Cassa Rurale d'Artigiana di Boves con cui c'è un rapporto molto importante e con cui si spendono anche progetti di forte innovazione, al di là del sostegno sulle attività e sulle manifestazioni locali. Ad esempio un'iniziativa che ha avuto anche un riscontro positivo sul fotovoltaico. Sì, certo. Il rapporto con la nostra banca di credito cooperativo, la Cassa Rurale d'Artigiana, è veramente molto buono. C'è una collaborazione notevole e un supporto reciproco. Abbiamo portato avanti alcune iniziative con la nostra Cassa. Una delle più importanti è stata proprio il fotovoltaico gratuito per i cittadini, i quali per i primi anni con gli incassi pagano un mutuo e dopo la prima parte di tempo in cui hanno rimborsato il servizio del debito restano proprietari e fruitori degli incassi e quindi hanno un vantaggio notevole oltre al beneficio all'ambiente. Quindi questo è un modo di reinventarsi oltre che il risparmio, anche la ricchezza a livello locale. E la ricchezza a livello locale è data sicuramente dal comparto dell'agricoltura. In particolare voi avete una chicca che molti invidiano ed è legata al mercato del fagiolo. Sì, direi di sì. Il consorzio che gestisce il mercato del fagiolo è un consorzio molto valido, sta portando avanti con grande attenzione e grande impegno la gestione del mercato e questo porta al riconoscimento e quindi il premio per il buon lavoro. Diciamo che nel raggio di molte decine di chilometri siamo i leader in questo settore. Quindi comune di Boves, comune innovatore anche nella cooperazione. Quindi l'augurio è di proseguire su questa strada. Grazie mille.